ciao a tutti oggi vediamo queste mini raspe per modellismo piccoli lavori possono essere utilizzati su tante materiali in particolare metalli dolci è un set di dieci pezzi la lunghezza totale è di 12 centimetri mentre la parte della lama è di 7 centimetri come si può vedere hanno forme diverse sezione triangolare quadrata semitonda completamente tonda sono molto utili per chi fa modellismo elettronica bigiotteria oreficeria in particolare per la lavorazione dei metalli ecco qui vediamo una piatta completamente piatta da entrambe le parti questa sezione triangolare questo da una parte bombata mentre dall'altra completamente piatta sono molto utili per chi fa modellismo bigiotteria e lavori di precisione ne potrete trovare sul nostro sito elettronica didattica puntocom spero che vi sia stato utile questo video vi aspetto per i prossimi continuate a seguirci e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale elettronica didattica ciao a tutti a presto a presto